A Capua ti aspetta il bellissimo store di Motoshop 2000. Nei nostri 3500 metri quadrati troverai in esclusiva per Caserta e provincia Aprilia, Motoguzzi, Derby e Kawasaki. In più, Corner Dainese, con eccezionali offerte su tutta la collezione. Ma la grande novità del 2011 è il nostro Vespa Store, dove troverai tutti, ma proprio tutti, i modelli Vespa, con l'abbigliamento e gli accessori ufficiali. Cosa aspetti? Vieni a trovarci! Siamo in via nazionale Appia per Santa Maria Capua Betere.